Se ne è andato dopo una lunga malattia Paolo Paiucca, storico collaboratore dello staff tecnico dell'Avellino Calcio. Avellinese Doc, affermato professionista, da qualche mese aveva iniziato una nuova avventura nella San Felice Scandone del presidente De Cesare. A giugno Paolo avrebbe compiuto 60 anni e lascia la figlia Giulia e la moglie Donatella. Paolo per un lungo tempo ha combattuto contro un tragico linfoma, era anche riuscito a sconfiggerlo, quel muro e bastardo, come lo chiamava lui, e aveva festeggiato la sua più importante vittoria con il libro Paolo 1, linfoma 0. Negli anni Paiucca è stato accanto prima a Massimo Rastelli, poi ad Attilio Tesser, commosso il ricordo del direttore sportivo dell'US Avellino, Enzo De Vito. Lui la vittoria dell'Avellino era felicissimo, ma quella è bella, ma anche bello quando lui rientrò in campo e vincevano, non ricordo la partita, sotto la curva, la squadra gli dedicò il gol, ma addirittura a Comi quando giocammo a Vercelli, si parlava sempre di lui, lo stesso anno a Pasqua con Massimo Rastelli, con gli altri, insomma era una persona per bene e sicuramente un uomo di calcio, un uomo che voleva innanzitutto bene all'Avellino e quest'oggi possiamo definirlo una bandiera, poi purtroppo, ripeto, è difficile parlare di Paolo in questi momenti, mi auguravo di doverne parlare per altri motivi, non per questi. Dal canto suo il presidente dell'US Avellino, Walter Taccone, ricorda l'uomo il professionista e annuncia la volontà di giocare con il lutto al braccio.